Musica Sabato 1 aprile, buonasera a voi tutti dalla redazione di Star News. Apriamo il telegiornale con la tragedia che ha colpito la comunità paternese, l'incidente mortale in cui ha perso la vita Gabriele Longo ieri mattina a Catania. La salva del 24enne paternese ha fatto rientro a Paternò a casa, domani una veglia di preghiera e lunedì mattina i funerali. Ma sentiamo i dettagli. Sono ore di angoscia quelle che continua a vivere la comunità paternese che da ieri mattina piange la prematura scomparsa di Gabriele Longo. Il 24enne morto in un tragico incidente avvenuto lungo via Santa Sofia, non distante dal policlinico di Catania, luogo in cui Gabriele prestava servizio come vigilantes presso il pronto soccorso. Ore di sgomento, di incredulità, di dolore e di vicinanza alla famiglia di Gabriele, al papà Antonello e alla mamma Alfina. La salva del giovane ha fatto già rientro a Paternò stamani e è stata eseguita l'ispezione cadaverica. Domani alle 19.30 verrà portata nella Chiesa dello Spirito Santo dove alle 20 si svolgerà una veglia di preghiera. E intanto, sul fronte delle indagini, procedono le verifiche ad opera della Polizia Municipale di Catania, sezione antinfortunistica, per cercare di comprendere l'esatta dinamica del sinistro che sin dal primo momento non si è presentata chiara. Si tenta di ricostruire l'accaduto se si tratta di un incidente autonomo o se ci sia stato un altro mezzo che avrebbe provocato la perdita del controllo della moto di grossa cilindrata guidata dal giovane. A tonita la comunità paternese, i tantissimi amici che amano Gabriele, ancora increduli per quanto accaduto. L'ultimo saluto a Gabriele verrà ufficiato lunedì 3 aprile alle 11 nella Chiesa dello Spirito Santo. Scoperti a Paternò in due esercizi commerciali, sei lavoratori in nero. L'operazione è stata condotta dalla locale compagnia della Guardia di Finanza. Complessivamente sono stati sei lavoratori in nero scoperti a Paternò dalla locale compagnia della Guardia di Finanza in due esercizi commerciali nel corso di un controllo effettuato nelle attività commerciali del territorio paternese con l'obiettivo di prevenire e reprimere il fenomeno del lavoro irregolare. In particolare i finanziari hanno scoperto in un bar cittadino circa il 50% di impiegati irregolari. Infatti su 8 dipendenti controllati 3 sarebbero stati impiegati in nero. Uno di esse addirittura percepirebbe il reddito di cittadinanza mentre gli stipendiati irregolari sarebbero stati retribuiti mediante pagamenti incontanti in contrasto a quando disposto dalla legge di bilancio del 2018 che prevede la tracciabilità del retribuzione dei lavoratori. Un ulteriore controllo effettuato presso un autolavaggio della città paternese ha permesso di accertare la presenza di tre lavoratori impiegati in nero ovvero il 100% degli operai presenti tra cui un minorenne. Nei confronti dei due esercizi commerciali è stata avanzata la proposta all'Ispettorato territoriale del lavoro di Catania della sospensione dell'attività imprenditoriale in ragione del superamento della soglia del 10% del personale presente sui luoghi di lavoro senza le preventive comunicazioni di instaurazione dei relativi rapporti di inviego. La Guardia di Finanza è da sempre impegnata nella lotta al lavoro nero. Si legge una nota stampa del Comando Provinciale Tenneo delle Fiamme Gialle una piaga per l'intero sistema economico perché mina gli interessi dei lavoratori spesso sfruttati e consente una competizione sleale con le imprese oneste. La Corte d'Appello della Corte dei Conti ha sentenziato la non candidabilità per dieci anni di Enzo Bianco, Bianco ex sindaco di Catania. Quest'ultimo che aveva annunciato la sua candidatura a sindaco si dice sorpreso per una sentenza che arriva a quasi due mesi dal voto amministrativo ai dettagli. Enzo Bianco è incandidabile per i prossimi dieci anni. A sentenziarlo è la sezione giurisdizionale d'Appello della Corte dei Conti della Sicilia accogliendo paziarmente il ricorso della Procura Generale. Inoltre all'ex sindaco di Catania è stato imposto il divieto per lo stesso periodo a ricoprire cariche in enti vigilati o partecipati di enti pubblici. La sentenza ha riguardato intagini errariali abbiate dalla Procura di Catania su attività investigativa della Guardia di Finanza sul dissesto finanziario del Comune di Catania. Per Bianco, condannata ad un risarcimento a danni di quasi 39.000 euro, è stata quindi disposta l'incandidabilità per un periodo di dieci anni alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo, e il divieto per lo stesso periodo di ricoprire la carica di assessore comunale, provinciale o regionale, né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Il provvedimento riguarda anche sia i componenti della giunta comunale in carica tra il 2013 e il 2018, sia quelli del Collegio e del Revisore dei Conti. L'ex sindaco di Catania Enzo Bianco, che aveva annunciato la sua candidatura a primo cittadino per le prossime amministrative alla guida di una coalizione civica senza partite, si dice sorpreso per la sendenza della Corte dei Conti. Fatico a trovare in modo di commentare quello che si è compiuto ieri a Palermo. Chi ha causato realmente dissesto, certificato già nel 2012 dal predissesso, l'ha fatta franga. Chi invece ha lavorato per evitarlo, come ho fatto io e la mia giunta, viene invece punito, ha detto Bianco. Le accuse a me addebitate riguardano solo tre voci sulle 800 che convongono il bilancio del Comune e tutte insieme rappresentano appena l'1,2% dell'ammontare complessivo. Quando mi sono insediato nel 2013, Catania era già in predissesto e decretato dalla giunta a Stanganelle per il disastro finanziario causato dalle giunte a Scavagnini. Sono un uomo delle istituzioni e rispetterò sempre la magistratura, ha proseguito Bianco, anche quando una piccolissima parte di essa, come una scelta clamorosamente sbagliata, Tutti i vari pronunciamenti di questi anni hanno ridotto la pena e cancellato l'interdizione. Soprende invece che a due mesi dal voto amministrativo quest'ultima sentenza si pone in evidente e controtendenza, ha concluso così Enzo Bianco sulla questione di venuto il deputato nazionale di Fratelli d'Italia, Maglio Messina, ex consigliere comunale di Catania. Per cinque anni in consiglio comunale ho denunciato quanto i bilanci del Comune di Catania sotto Enzo Bianco fossero palesemente falsi. Ancora dopo anni, essendo sostenitori di Bianco, lo stesso ex sindaco sostenere invece che la responsabilità della situazione di degrado della città fosse attribuire all'amministrazione di centro-destra, dice Maglio Messina. Ora si mette fino a questa brutta pagina della nostra città, sangendo senza sé e senza ma di chi siano le responsabilità del dissesto del Comune di Catania. Un mercato fatto di oggetti riciclati è quello che si è svolto oggi a Biancavilla a cura del gruppo Dona quello che vuoi con amore. Sentiamo. È stata a Piazza Roma di Biancavilla ad ospitare questa mattina il gazebo dei volontari dell'Associazione Insieme per la Salute in collaborazione con il gruppo Dona quello che vuoi con amore messo a disposizione dalla locale sezione della Croce Rossa italiana. L'iniziativa ha visto la vendita di oggetti completamente riciclati per riacquisire nuova vita. Tanti infatti gli oggetti in mostra frutto dell'impegno dei volontari. Stiamo facendo questo piccolo mercatino per raccogliere dei fondi che poi verranno devoluti all'oratorio Don Pino Puglisi che è anche l'oratorio che ci ha dato la possibilità di aprire una sede dove noi facciamo delle donazioni sia a livello di vestiti, diamo anche un piccolo sostegno alimentare tramite le donazioni di altri donatori che comunque sono anche dei richiedenti. Quindi è passato il messaggio non solo di ricevere, cioè venire a chiedere, ma anche di donare al prossimo e questo già per me è un grande traguardo. Un piccolo gruppetto di mamme che realizziamo questi lavoretti di riciclaggio dove noi già dall'anno scorso ci siamo impegnati con l'oratorio Don Pino Puglisi, sempre, e quest'anno invece la stiamo portando un po' in giro per i paesi. Quindi abbiamo fatto Adrano, Biancavilla, faremo Santa Maria di Legottia in tre date diverse, 6, 8 e 10 di aprile. E ci auguriamo che vada bene così come sta andando finora perché la gente sta partecipando. Possono acquistare diversi tipi di oggettini, da oggetti di Pasqua fatti interamente con materiali di riciclaggio, quindi la lana, tappi, polcini, ovetti, sono stati colorati, oppure ci sono anche delle cose che provengono da restaurazione. Siccome anche quello per me è una forma di rimettere in riuso le cose perché a volte per un graffietto, per una rottura accidentale, quella cosa si butta e perde il suo valore. Invece, grazie anche alla nostra Giacoma, che è una bravissima restauratrice, alcune cose riprendono il loro valore, se non anche un valore migliorato al 100%, a volte perché riesce anche a utilizzare la porcellana, utilizzando dei materiali e possibilmente non va a vedere dove c'è la rottura. Quindi sono delle tecniche artistiche che lei, in quanto professoressa, mette in atto solo ai fini di ridare vita a queste cose. Per esempio, qui abbiamo fatto un vassoio, oppure si ci può mettere la colazione, tipo una tovaglietta per la colazione, qualcosa tipo portabicchieri. Insomma, abbiamo ricreato anche delle cose che si possono utilizzare tutti i giorni, non solo per la Pasqua. Però, vedete, è una cosa bellissima perché sembra vera, ma alla fine è finta. Cioè, sono quelle classiche piante, dice, non muoio mai. Queste adatte alle donne che, ovviamente, come me non hanno il pollice verde, però amano. Un mercatino solidale, quello allestito questa mattina, sempre a Biancavilla, dall'IRSAT, volto ad impegnare giovani e meno giovani nell'arte del riciclo. Aspettando la Pasqua al giardino di Remida, questo è il laboratorio di riciclo creativo e cucito, allestito questa mattina nell'area verde di Via Taranto a Biancavilla, nella zona Solaris, dietro l'ex macello comunale, organizzato dall'IRSAT col patrocinio del comune di Biancavilla, a partecipare all'evento diverse associazioni, scuole e semplici cittadini. Come potete vedere, abbiamo allestito un mercatino solidale per far vedere un po' tutte le creazioni realizzate insieme ai nostri ragazzi, a soggetti svantaggiati, ma ragazzi di tutte le età ormai partecipano per realizzare questi lavoretti con materiali di riciclo. Grazie a questo progetto, che è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Bando Fermenti, abbiamo riqualificato quest'area verde. In particolare abbiamo realizzato un orto urbano biologico ed è condiviso, quindi il primo orto urbano condiviso a Biancavilla, quindi invito tutti, magari quelli che possono essere interessati a chiedere informazioni, a visitarci perché è possibile appunto coltivare insieme dei sani prodotti della nostra terra e condividerli. Nelle settimane scorse abbiamo raccolto i prodotti dell'orto invernale, i tradizionali broccoli, abbiamo fatto la scacciata, abbiamo fatto una festa tutti insieme, abbiamo cucinato tante belle verdure. Nella parte superiore invece di quest'area sono in corso ma fra breve saranno completati i lavori per la realizzazione del giardino sensoriale. È un giardino che sarà anche aperto ai disabili, sarà dedicato ai bambini, ai ragazzi, c'è un'area dove ci sono tutte le erbe aromatiche, quindi faremo delle visite didattiche con le scuole. Oggi siamo qui con l'Istituto Radice di Bronte, dando una mano a realizzare l'orto, l'impianto di irrigazione e quant'altro, quindi un contributo veramente prezioso. Replicheremo la festa martedì prossimo, quindi il 4 aprile, saranno presenti in quel caso i ragazzi dell'Istituto Ipsia Efesto di Biancavilla, anche con loro una grande collaborazione che ormai prosegue da più di un anno. Un'associazione giovani che in collaborazione con la scuola, con gli istituti scolastici, con l'amministrazione si sono innanzitutto riappropriati di uno spazio periferico, rendendolo vivibile, rendendolo anche molto attivo con dei ragazzi che hanno realizzato dei laboratori, dei progetti molto importanti, sono riusciti a fare anche un orto sociale. Quindi è davvero una bella esperienza a cui va tutta la mia ammirazione per come è stata portata avanti, quindi un ringraziamento va certamente al professore Lobbianco dell'Irsat, alla dottoressa Candistraci e a loro auguro di continuare in questo percorso che è un percorso assolutamente importante, che tiene attivi i giovani in qualcosa di veramente significativo. Si crea integrazione fra le generazioni, magari le persone che hanno più esperienza, gli anziani insegnano, i giovani e i giovani apprendono e si crea anche questo attaccamento al territorio che è importante perché l'orto, un orto urbano come in questo caso, quindi questo tipo di interventi, proprio diciamo che sviluppano questo interesse per il territorio, l'orto è vita, l'orto è cura e custodia. Per cui ovvio che la scuola nello specifico mette in campo anche i saperi disciplinari tecnici dei nostri studenti che hanno dato un contributo alla realizzazione per esempio dell'impianto di irrigazione oppure alla piantumazione di piante aromatiche, il tutto nell'ottica proprio di sviluppare questo interesse, questa partecipazione alla nostra terra, al nostro territorio, per cui necessariamente diciamo la scuola ci deve essere. Apriamo adesso la pagina dedicata alle celebrazioni in vista della Santa Pasqua del Signore, le comunità del comprensorio etneo si apprestano in questi giorni a rivivere la passione e la morte di Cristo con le sacre rappresentazioni. Sentiamo il riepilogo in questo servizio. Sacre rappresentazioni sono quelle che si stanno svolgendo in questi giorni nei centri del nostro comprensorio e che vedono impegnate le varie comunità cittadine nel far rivivere la passione e la morte di Gesù Cristo. Ieri abbronte ad essere stata interessata la comunità parrocchiale della Chiesa Santa Agata Vergine Martire organizzata da Don Giuseppe Scrivano. Dopo l'avvio della Via Crucis vivente parrocchiale da Via Regina Margherita, il percorso è stato scandito con canti e preghiere dove sono state rappresentate le 14 stazioni. Infine la conclusione in tarda serata sul Monte Calvario dove è stato allestito per l'occasione dietro la Chiesa San Nicola la crocifissione di Cristo. Anche ad Adrano domani alle 18 in Piazza Umberto si terrà l'avvio della tradizionale Via Crucis curata dall'Oratorio Maria Santissima del Rosario. Il corteo religioso percorrerà le vie interne del centro storico per far rivivere ai presenti gli ultimi istanti di vita del Cristo caricato dal legno della croce. E sempre domani anche la Fraternità Francescana del Convento dei Frati Minori di Biancavilla sarà impegnata per la Via Crucis vivente. La Sacra Rappresentazione patrocinata dal Comune avrà l'avvio alle 19 da Piazza San Francesco sul Sagrato dell'Omonima Chiesa. Diverse saranno le soste di preghiera lungo il percorso cittadino che faranno rivivere ai presenti la drammatica vicenda che ha visto il figlio di Dio essere condannato a morte ed essere crocifisso per poi risorgere. A Paternò domani, sempre alle 19, la Passio Cristi con l'avvio della Sacra Rappresentazione da Piazza Santa Barbara. Qui i personaggi saranno impegnati a percorrere la Via Dolorosa di Cristo caricato dalla croce sino poi a giungere sulla collina storica con soste di preghiera lungo il tragitto. Insomma, le comunità vivranno momenti carichi di sentimenti e di spiritualità in preparazione alla Pasqua oramai vicina. Domani, Domenica delle Palme, al Via la Settimana Santa nelle chiese parrocchiali dopo la benedizione delle palme, dei ramoscelli di Ulivo e processioni dei fedeli per poi giungere nelle rispettive chiese e proseguire con le sante messe. Durante la settimana le varie comunità parrocchiali saranno impegnate negli esercizi spirituali. 40 anni fa, il venerdì santo del primo aprile del 1983 a Biancavilla, è stato sfigurato con un filo elettrico il volto della Madonna addolorata mentre era in processione. A ricordare questo avvenimento è la nostra rubrica Pillole di storia. Il venerdì santo del primo aprile 1983 a Biancavilla è ricordato per l'incidente che ha sfigurato il volto in cera del simulacro della Madonna addolorata. I fedeli, da secoli, manifestano la loro fede, rievocando la dolorosa ricerca di una madre del proprio figlio condannato a morte e che poi lo troverà inchiodato nel legno di una croce. Il simulacro della Madonna addolorata venne realizzato alla fine del XVIII secolo. Il volto, le mani e i piedi sono in cera e sono attribuiti alla bottega Rosselli di Messina, mentre gli abiti sono in seta con ricami in oro zecchino. Dopo l'avvio della processione alle ore 6 del mattino come da tradizione del primo aprile 1983, lungo le vie cittadine, giunta intorno alle 11, nei pressi della chiesa San Giuseppe, i portatori non si sono accorti della presenza di un filo elettrico teso tra un'abitazione e l'altra, un po' più basso dal solito. Durante il passaggio del simulacro ha impattato con il volto della Madonna, sfigurandola. Furono momenti veramente drammatici per i presenti. Subito la processione fu interrotta con il simulacro che fu coperto e fatto rientrare velocemente in chiesa madre con l'intera comunità biancavillese caduta nello sconforto. Il pianto, il silenzio, c'è stata una processione poi piena di silenzio e con molta preghiera nello stesso tempo. Abbiamo, mi ricordo, la parte finale di via Vittorio Emanuele che è molto animata con tanta gente, non si guardava, si guardava proprio a terra tutti con gli occhi bassi e con un passo francamente un po' frettoloso abbiamo raggiunto la chiesa madre. E quel giorno è stato per noi un giorno brutto e ci auguriamo che questi eventi non possono mai succedere. Tante ipotesi, tante ride, ognuno che diceva la prima cosa accadrà a Biancavilla, cosa succederà, niente. Il mando della Madonna ha coperto anche questo incidente. Mi rivolgo, vado il giorno ancora successivo al laboratorio, in un'altra zona di Milano dove abitavo e conosco finalmente il signor Pagliotti. La guarda dice si può risanare ma con questa statua non potete più girare le vostre processioni perché è debole e il rischio è quello che si possa affrontumare. Quindi procederemo a risanarla ma nello stesso tempo faremo una nuova copia. Così è stato fatto. Alla fine del risanamento della nuova figura della Madonna, il padre Calaciura viene e viene riportato a Biancavilla. Il compianto maestro ceroplasta Giuseppe Quagliotti, scomparso nel 1992, realizzò quindi una copia della testa della Madonna in cera che sostituì quello originale del simulacro che oggi viene portato in processione. E in merito a quanto visto, a conclusione di questa edizione del telegiornale, andrà in onda uno speciale dedicato proprio al racconto di questo avvenimento che ha scosso parecchio alla comunità biancavillese del tempo. Intanto per il momento è tutto. Prima di chiudere, come ogni sabato, vi ricordo la possibilità di consultare il nostro sito internet www.videostarnews.tv, tenervi sempre aggiornati con il nostro settimanale, il nostro TG Sette Giorni, i fatti più importanti della settimana che andrà in onda domani alle 10, alle 13.30, alle 16.30, alle 23.30. Poi lo sapete, ci trovate sempre sui nostri social, quindi Facebook, Twitter, Instagram, Telegram e TikTok. Grazie a tutti voi per averci preferito, un buon proseguimento di serata ed una buona domenica.